I tagli al settore del trasporto pubblico locale ci sono stati e possono incidere sulla qualità dei servizi offerti agli utenti e quanto ha detto senza mezzi termini il rappresentante della regione l'ingegnere Riccardo Mastropietro all'incontro nella sede di Trenitalia Molise. Al tavolo c'erano il direttore Vittorio Moffa e il coordinatore del forum trasporto pubblico locale Filippo Poleggi. Per il 2013 è stato stanziato per tutta Italia 4.929 milioni di euro da suddividere percentualmente alle varie regioni. A noi nel caso migliore dell'ipotesi vanno all'incirca 35 milioni di euro che sono i due terzi di quanto dovremmo spendere per la gomma e per il ferro. Di queste risorse per il 2013 ce ne ha assegnato il 60% in tutta Italia e sono all'incirca 21 milioni di euro. Noi con 21 milioni di euro dobbiamo far fronte a pagare ferro e gomma. Il forum ha ribadito le sue richieste, più risorse per il trasporto pubblico locale, un piano tra regione e Stato per interventi e investimenti per ammodernare. In ballo c'è poi ancora il progetto della metropolitana da Boiano a Matrice con tre fermate a Campobasso, costo 29 milioni di euro. Trenitalia ha ribadito che il trasporto pubblico locale non può gravare sulla collettività. Stiamo lavorando alla programmazione degli orari per il 2014, ha spiegato Moffa, aggiungendo che c'è da recuperare qualcosa sulla puntualità dei treni, la pulizia e il comfort, ma si sono raggiunti anche dei risultati positivi sulla rimodulazione degli orari dei treni da Roma al Molise. Mi riferisco in particolar modo alle partenze da Roma nel pomeridiano, che le abbiamo cadenzate alla partenza al minuto 35, in particolar modo partono al 14 e 35, 17 e 35, 19 e 35, 20 e 35. Gli ultimi tre treni non hanno più la fermata a Cassino e quindi questo dovrebbe in qualche modo rendere più agevole e più confortevoli il viaggio dei molisani che rientrano da Roma verso il Molise. La prima fermata, infatti, è Venafro. Per Pasqua, poi dichiarato Moffa, sono stati effettuati rinforzi sempre sul collegamento Roma-Molise. Per esempio il treno anche delle 14 e 35 non effettua la fermata a Cassino in questi giorni, così come non effettuerà nemmeno la fermata a Cassino nei giorni immediatamente successivi alla festività di Pasqua. Grazie. Grazie.